Al termine della terza giornata sono tanti i calciatori che si sono messi in mostra. Se l'altra volta abbiamo proposto il modulo per eccellenza del fantacalcio, il 3-4-3, adesso optiamo per il 3-4-1-2. Questa volta partiamo con il tecnico Vincenzo Viverini e il mister top di giornata. Il Catanzalo vince e convince e segna quattro reti a partita. Di certo non mancano le bocche di poco alle acule che nella cinquina latina si sono scatenate. In più è l'unica squadra, quella calabrese, che non ha subito reti. In campionato, chapeau, in porta Branduani del Crotone si dimostra portiere all'altezza della categoria e di affidabilità. Rimane la porta inviolata all'Adriatico e consente ai pitagorici di espugnare lo stadio abruzzese. Respinge tutti gli assalti della compagine del Fina, sicurezza. In difesa sorpresa spunta un ex calciatore dell'Avellino, Daniele Mignanelli, match winner per le Vespe in casa del Monterosi. Ritrovato anche in mattina del Potenza, sbroiato la Matassi in casa Lucana, permettendo ai Rosso Blu di strappare un ottimo punto al minuto 95 sul campo della Gelbison. Chiudiamo con un altro calciatore che ha dato in là la rimonta Corallina. Frascatore della Turis ristabilisce la parità con il Taranto e spinge i Napoletani alla vittoria. A centrocampo, in mezzo, Sounas del Catanzaro, un giocatore completo per le sue caratteristiche. Segna e fa segnare. Tiene costantemente il pallino del gioco in mano. Faro, ancora d'Ursi del Foggia, dà una boccata d'ossigeno a Roberto Boscaglia. I Satanelli trovano la prima vittoria stagionale grazie al gol dell'ex Bari. Può iniziare adesso nella Dania una nuova era. Terzo della mediana è il calciatore del Picerno De Cristoforo, che al partendo a Lombardi segna il suo rumo gol in campionato contro il Giuliano. L'ultimo a completare, invece, la zona neurologica del campo è Amlili del Monopoli. Contro i Lupi è stata una furia, un trascinatore ed è indispensabile per mister la terza. Dietro le punte è Reginaldo del Picerno. Il brasiliano, a inizio mercato, era dato ormai al nuovo Catania. Invece ha già siglato due gol in due match. Leader. In attacco la Coppa delle Maravie è formata da Iemelo e Chiricò, decisivi per Catanzaro e Crotone. Gli attaccanti delle due capoliste dimostrano di meritare il salto di categoria e che in C sono calciatori che fanno la differenza in ogni piazza dove giocano.